Fabrizio Renti è l'assessore del Comune di Monte Argentario, delegato per tutte le manifestazioni di Porto Santo Stefano, Porto Ercole del Comune. Io seguivo quando leggeva e non trovavo giorni liberi. Sì, vabbè, è un programma molto complesso, poi ripeto, noi abbiamo molte associazioni che partecipano e organizzano gli eventi, sempre con la collaborazione del Comune di Monte Argentario, perché il Comune di Monte Argentario, sia io che Chiara, siamo molto partecipi per aiutare queste associazioni, oltre quelli che organizziamo proprio io e Chiara, perché lei, io è vero che sono la stessa cosa. Presentaci Chiara intanto. Chiara è consigliere comunale, diciamo che lei è il giovane che continua, io sono anziano, naturalmente arriverà il momento in cui mi devo mettere in disparte e la scelta naturale da parte mia naturalmente è Chiara, oltre la bellezza ma anche la professionalità e la disponibilità che dà. Per qualsiasi cosa la chiamola è sempre disponibile, carina, anzi è quella che mi fa fare bella figura, perché io forse sono un po' più impulsivo, lei invece porta tranquillità. Questo programma, come è stato pensato? Su quali linee? È un programma dove dobbiamo cercare di incastrare degli eventi storici che ci sono all'Argentario, dalle scene rionali, al palio, alla consegna dei guzzi, a comunque altri tipi di eventi che possono piacere sia ai giovani che alle persone più adulte o comunque più grandi. E quindi abbiamo cercato ad esempio di mettere un nome giovane, ad esempio come Giuliano Palma che prende tutta una fascia di età, fine 35 ma anche più grande, e semmai un evento lirico che invece attrae un pubblico più adulto e quindi secondo me è un... Futuro assessore è anche un bello sforzo economico? È anche un bello sforzo economico, però si porta comunque gente, è un'attrazione per il paese e noi lo facciamo molto più che volentieri, vero? Allora questa potrebbe essere l'ultima estate dell'amministrazione, sicuramente l'ultima estate dell'amministrazione Cerulli, qual è la ciliegina sulla torta per voi di questa estate? Va bene, la ciliegina sulla torta rimane sempre Argentario Urban Movement, questo però secondo il mio giudizio, che è il campionato italiano internazionale di poppe, di poppe che è importante, oltre gli eventi che ha detto Chiara, cioè Giuliano Palma, Ballantini e Dolce Nera a Porto Ercole, Santa Rosa, la lirica, con te partirò la lirica qui a Porto Santo Stefano, ma poi anche altri Miss Italia, l'anno scorso tra l'altro è stata eletta proprio è partita qui quella che ha vinto Miss Italia, però tutti eventi importanti, il cortometraggio che organizza la Proloco, sempre dietro naturalmente il nostro patrocino e tutti gli altri eventi che organizzano sia a Porto Ercole che a Porto Santo Stefano, però ripeto quello più importante dovrebbe essere Argentario Urban Movement, anche veniamo dall'esperienza dell'anno scorso dove è stato un gran successo e speriamo di ripeterlo, di ripeterlo anche e magari aumentare il successo. Tutto pronto anche per il palio Fabrizio? Sì, anche se lì ci pensa naturalmente Alessandro Roncolini come delegato e poi l'ente palio, però naturalmente, ripeto, io nel mio assessorato conto molto nella collaborazione sia di Alessandro che di Chiara, perché insieme riusciamo, e anche l'assessore Lubrano Michele a Porto Ercole, insieme riusciamo a essere più squadra, a essere più uniti, anche perché è importante per noi presentarsi al meglio e per lasciare qualcosa di buono. La speranza è quella di riesserci un'altra volta. Ecco appunto, è quello che voglio dire anch'io. Cioè io sai, voglio dire, io gioco sempre per vincere, naturalmente così sarà la prossima volta, anche quando gioco a carte con i miei nipoti io devo vincere a carte con loro, così che io gioco sempre solo per vincere, però naturalmente bisogna sempre mettere il sé, perché non bisogna essere boriosi, perché che cosa. Allora noi dobbiamo comunque, in questo momento come ci dice il candidato al sindaco Priscilla, ci dice dobbiamo lavorare, non dobbiamo pensare alle elezioni, dobbiamo lavorare e fare come abbiamo fatto finora, lavorare e fare tutto quello che deve essere fatto per l'argentario. Ritornando ai spettacoli, come diceva anche Priscilla, Priscilla noi potevamo farle alle piane, abbiamo tante location, però le vogliamo fare nei centri, perché dobbiamo portare un incremento al lavoro delle attività e che qualcosa renda questi spettacoli. Ne hanno anche bisogno queste attività. Oltre che sentire poi chi brontola per il rumore, per quelle quell'arri, dobbiamo anche accettare chi può essere contento, perché comunque ha lavorato grazie a questi eventi. Priscilla Astriano è l'attuale vice sindaco del comune di Monte Argentario, che è candidata a sindaco per le elezioni del 2018. Ci ha colpito una cosa mentre presentavate tutti gli eventi. Priscilla ha detto, qui è tutto gratis. Sì, è tutto gratis perché stavamo parlando del nostro programma estivo e volevo semplicemente chiarire che magari i nostri nomi di spicco ce li abbiamo, ma magari a volte ci si confronta con dei comuni limitrofi che portano all'interno del comune o sul territorio delle personalità che magari a volte veniamo criticate e non le portiamo all'argentario. Beh, è una scelta ben pensata, non è che le abbiamo fatte in modo sproveduto. Per quale motivo? Dove vengono fatte dei festival dove ci sono dei cantanti di spicco, lì c'è da pagare un biglietto. Quindi c'è da penotare, pagare il biglietto e a quel punto lì ovviamente trovare il territorio o lo spazio dove metterli. La nostra scelta è stata quella di portare personalità a chi però non hanno necessità di pagare il biglietto. Ovviamente per un discorso di spazi, portandoli in paese, perché noi vogliamo che la manifestazione avvenga all'interno dei due paesi. Probabilmente a Piazzale dei Rioni. A Piazzale dei Rioni e nel Piazzale di Porto Ercole, perché il programma prende tutto il territorio, quindi Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Portandoli ovviamente in paese, questo può portare le persone che vengono ad ascoltare il cantante o vengono a sentire il comico, possono farsi una passeggiata prima, dopo, prendersi un caffè, un gelato, una pizza, rimanere al ristorante. Fare una manifestazione che porta delle personalità, che portano ovviamente più gente. Per noi innanzitutto significherebbe spostarlo alle piane. Spostarlo alle piane c'è la possibilità di avere gli spazi, quindi anche personalità di un certo tipo, facendo pagare ovviamente il biglietto. Quindi a quel punto porto il personaggio molto importante, lo porto fuori dal paese, quindi non lo porto né a Santo Stefano né a Porto Ercole. Quello ovviamente si prende il biglietto, va a prendere il suo posto. E' finita lì. E' finita lì, finisce lo spettacolo, se ne va a casa, prende la sua macchina e se ne va a casa. Perché è una scelta che io non è che vada ad opinare la scelta degli altri comuni. Io sto parlando della scelta nostra, che è stata quella di portare il personaggio che possiamo ovviamente tenere nel territorio, quindi nel centro del paese, facendo sì che le persone vengono gratuitamente ad ascoltare lo spettacolo e che possano poi lasciare i soldi sul territorio. Però questo coinvolge un po' le finanze del Comune, perché in questo caso l'impegno economico da parte dell'amministrazione è sicuramente più alto. Beh, come le ho detto appunto, è ovvio che è più alto, perché poi alla fine non è che ci possiamo permettere dei personaggi che hanno una quota alta, ma non solo economicamente, ma neanche di spazi. Per cui è ovvio che il Comune deve investire anche sul turismo. Poi si avvale delle associazioni molto valide, quali le Proloco, che portano ovviamente il loro contributo, la loro attività fisica nel fare, nel programmare. Anche le idee. Molte idee, molte idee. Il Comune ovviamente finanzia, finanzia le iniziative, finanzia gli spettacoli, ma il Comune ha l'obbligo anche di finanziare questo. Siamo un paese turistico, viviamo di turismo, per cui tutto ciò che serve a portare qualcuno sul nostro territorio per farlo conoscere, anche solamente per farlo conoscere, magari qualcuno di massa vuole venire a vedere Ballantini all'Argentario, non c'è mai stato, lo vede per la prima volta. E' gratis. E' gratis e magari ci torna. Per cui non è solo, è un investimento, non è una spesa, è un investimento che noi facciamo anche per le nostre attività commerciali. Ora però, siamo vicini al palio. Eh, siamo vicini al palio e quindi... Super partes o solo fortezzaiola. Allora, io come amministratore, ok, come amministratore sono super partes nel senso che chi vince, ovviamente, io lo premio, a prescindere da chi vince. Vabbè, vorrei vedere. Oh, benissimo. Però... Dicessi che il mio cuore non batte per la fortezza, sarei un'ipocrita, perché il mio cuore ha sempre battuto per la fortezza. E il 15 mattina, come tutti i santosefanesi, per noi è un giorno a parte e a me la mattina mi batte il cuore per il mio rione. Poi negli ultimi anni l'ho sempre visto vincere sfacciata, ma per il 40 non l'ho visto vincere. Allora dico io Forza Croce, Forza Pilarella, Forza Valle. Ma diciamo Forza Palio del Monte Argentario. Bravissima, complimenti. Diciamo Forza Palio Monte Argentario. Nel presentare la programmazione mi ha colpito una cosa, questo Festival dei Cortometraggi, di che si tratta e quando ci sarà? Allora, ci sarà il 28, 29 e 30 luglio nel Piazzale dei Rioni. Praticamente è un concorso di cortometraggi internazionale. Ci sono arrivati più di 1300 film. Già? Sì, già, ma si è concluso, diciamo, il bando è stato chiuso il 31 maggio, quindi abbiamo già selezionato... Ma 1300 è un gran numero. È stato un lavorone, anche perché tanti erano in lingua straniera, quindi abbiamo avuto bisogno di aiuto di altre persone, insomma. E quindi abbiamo selezionato circa 20-30 film, perché andranno poi sotto il giudizio di una giuria competente. Ancora deve essere stabilita che cos'è quella giuria. Sì, praticamente abbiamo uno dei giurati e già posso comunque dirlo, perché ci ha aiutato anche nel discorso dell'organizzazione, ci ha dato dei consigli utili, che è Alessandro Capitani di Orbetello, un regista che ha vinto comunque con il suo corto bellissimo al David Donatello dell'anno scorso, e ci ha dato dei consigli molto utili. Poi ci sono dei personaggi, delle persone comunque che vivono all'argentario, ma che lavorano anche fuori, quindi per esempio c'è Stefano Giovani, che è coreografo, che lavora a Roma. C'è la professoressa, anche Ersilia Agnolucci, professoressa dell'arte di Orbetello. Ma perché avete pensato a questo festival? Con quale spirito? Lo spirito è sempre di proporre delle cose comunque nuove, perché questo è un festival nuovo, giovane, prima volta all'argentario, io parlo di Porto Santo Stefano, e diciamo volevamo aprire una finestra sul mondo, essendo un festival internazionale, e una luce puntata sull'argentario, quindi proporre l'argentario anche sotto un altro punto di vista, magari ecco, culturale e cultura, diciamo cinema, quindi è anche più popolare a livello di cultura, una cultura un po' più alla portata di tutti. Antonio Sabattini è invece il deus e smacchina dei pirati di Porto Ercole, ma allora, dopo i pirati, dopo la regata dei quattro forti, che avete in testa a Porto Ercole, chiaramente? Beh, riguardo il comitato pirati, presenteremo il 18 luglio in Piatta Santa Barbara, quello che abbiamo chiamato temporaneamente Caravaggio a completo. Eh beh, insomma, c'è Caravaggio, io volevo che lo dicessi tu, eh? Beh, cioè, il sindaco presenterà il progetto da un punto di vista socio-economico-politico, l'architetto Marco Gorgogna presenterà, ci illustrerà il progetto urbanistico del recupero dell'asilo, dell'asilo di caso, della ristrutturazione dell'asilo. E Claudio Strinati, conosciamo tutti il valore, no? Culturale del professore, è stato per diversi anni anche soprintendente ai musei romani, presenterà il progetto da un punto di vista filologico, scientifico, culturale e artistico. In che consiste? Il progetto consiste nell'allestire, all'interno dell'ex asilo di Casoli, una mostra virtuale di tutte le 79-80 opere che Caravaggio ha realizzato nella sua pur breve vita. Come? Praticamente stamperemo su alluminio e su tela tutte queste 80 opere, comprese quelle tre scomparse durante la guerra e l'unico olio su un muro che abbiamo, che si trova a Roma, in Villa Ludovisi, con stampe in altissima definizione. Quindi il tutto però sarà coadjuvato e collegato con delle situazioni video immersive, audio immersive, che praticamente spiegheranno anche da un punto di vista scientifico, storico e culturale le opere. Ovviamente tutte le opere non entrano nell'asilo, perché sono in scala naturale, una a uno. Quindi, per esempio, anche la decollazione del Battista, con i suoi 5 metri per 3,81, immaginate, ce ne sono almeno una ventina di opere che superano i 3 metri. Quindi, praticamente, carrieremo un percorso, un viaggio, che inizierà con le prime opere a Forte Stella. Dobbiamo ancora decidere quante installarle, poi nelle due fortezze di Porto Ercole e alcune opere abbiamo intenzione di installarle anche in alluminio nei vari posti più interessanti del paese, del borgo antico, a Porto Ercole Vecchio. Quindi, in un vicolo, in un anfratto, troveremo queste opere. Per finire, poi, il percorso proprio all'asilo di Casoli.